Una buona giornata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 rallentamenti in direzione Bologna tra Val di Chiana e Monte San Savino per ripristino urgente della pavimentazione. Sulla A12 fare attenzione per vento forte segnalato tra Carrara e Colle Salvetti. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in pruneta. Sempre per lavori è chiuso in entrata lo svincolo di Colle Valdelsa Sud in direzione Firenze. Sulla statale 1 Aurelia è chiuso per lavori lo svincolo di Rosignano Marittimo in entrata e uscita in direzione Livorno. I treni per un problema o un convoglio nei pressi di Figline Valdarno e regionali nella tratta Firenze-Arezzo potranno subire ritardi. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!